Ciao ragazzi, come va? bella festa, due anni fa c'era, eravamo in un posto, adesso c'è la band uè Corrado dove sei? Due anni fa ti ricordi che c'era, eravamo tutti tranquilli adesso c'è un palcoscenico, c'è una band bellissima, chissà tra due anni l'orchestra simonica, sì ci saranno tutte un'aggiunta di... si guante Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.